Abbiamo a che fare con un regime che dimostra disprezzo per la vita umana della propria stessa gente, delle proprie donne e dei propri bambini. E ancora oggi, mentre vi parlo, il regime sta assediando centinaia di migliaia di civili nelle zone ribelli fuori dal controllo delle forze lealiste. A queste popolazioni viene impedito l'accesso al cibo e ai medicinali, a dispetto degli appelli e degli sforzi delle Nazioni Unite e della comunità internazionale nel suo complesso. Ciò per dirvi che non possiamo certo farci illusioni che vi siano scorciatoie per raggiungere la pace in Siria. Siamo coscienti che ci vorrà del tempo perché questo processo conduca risultati concreti. Il negoziato di Ginevra va alimentato e sostenuto con forza ed efficacia perché rappresenta l'unico strumento idoneo a far dialogare le diverse parti siriane.